Oh, ma è quello, tranquillo, è quello, è quello che ora vanno a fare, si chiama? Hai lì? Anche, ragazzi, ma che c'è? La, anche, ragazzi, ma che c'è? O, che era? Chi si ha? Ciao? E, sta, ci vuole un'altra aula? Qui o tu? No! Sì, ha un po' un gioco. Sarebbe? Sarebbe?